Tutti i giorni insieme e quindi di conseguenza automaticamente siamo qui di nuovo per Angelo Viannelli nei vecchi tempi con l'Ambasciatore del Sorriso. Allora, cosa ci dici oggi? Allora, siamo molto felici perché questa versione, una nuova versione per l'Ambasciatore del Sorriso all'interno della Sala dei Baroni è davvero molto bella, un po' più istituzionale rispetto all'ambito dello spettacolo, un po' più vivace, quindi diventa sempre più serio, sempre più formale, ma ne prende dal punto di vista dell'aspetto dell'eleganza. Oggi sarei emozionata perché un ambasciatore diverso dagli altri, la Sala dei Baroni che suscita sempre eccellenze di emozioni particolari. Poi il maschio angioine è sempre bello, poi dipende a volte anche un po' dalla location, quindi facciamo un meno spettacolo. Come lo vedi Angelo? Molto emozionato. Non è che ha qualche libro da qualche parte? Sì, secondo me si è nascosto, ce l'ha, lo sta preparando, quindi preparati per tutto un percorso insieme per parlare. Io il 24 vado in Florida, quindi fino all'anno prossimo? Vabbè, torna. Se c'è il libro no. No, 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 ci sarà un libro che parlerà invece non più di pandemia, perché poi ho fatto pandemia 1, pandemia 2, pandemia 3, ma vogliamo direttamente cose belle, quindi o cose belle o niente. Grazie Franco. Ci offri, ambasciatore del sorriso.